Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida non più procrastinabile. Dobbiamo trasformare il nostro modo di vivere e renderlo sempre più durevole affinché l'unico pianeta Terra da cui tutti dipendiamo non venga compromesso per sempre. Per questo servono innovazione, creatività, ma allo stesso tempo rigore scientifico per misurarne gli effetti lungo l'intera catena del valore in modo attendibile. Questa sfida è in realtà anche una grande opportunità e per coglierla servono collaborazione, condivisione, senza limitarsi a guardare nel proprio orticello. È importante per un'organizzazione comprendere dove sono le maggiori criticità e i rischi nella catena del valore per poterli convertire in fattore di successo per tutti noi, per farlo in modo rigoroso servono conoscenza, dati e strumenti. ThinkStep, in oltre un quarto di secolo, grazie ad un intenso scambio con i propri clienti e partner, ha sviluppato soluzioni e servizi che integrano questi tre aspetti e che sono in continua evoluzione. La gestione della durabilità deve diventare parte del DNA di un'organizzazione ed è per questo che puntiamo a rendere autonome le organizzazioni che supportiamo, dando loro soluzioni ad hoc che conservano la scientificità di un approccio di valutazione, monitoraggio e gestione delle prestazioni sostenibili e che possono essere integrate in modo graduale nell'intera organizzazione, coinvolgendo anche l'intera catena del valore, dai fornitori ai clienti. Come genitore il mio principale obiettivo educativo è quello di rendere mia figlia e mio figlio autonomi e in grado di fare scelte oculate. Come responsabile di ThinkStep Italia ho lo stesso obiettivo, rendere i nostri clienti e i nostri dipendenti autonomi e proattivi.